musica Nadia, quando c'era questa musica non eravamo davvero giovani? un ciccinino non sono sempre giovane vabbè ho capito mi sembra una babbiona ma sempre giovane avevamo il cicci turbo, patatina ero giovane anch'io era giovane anche lui e guardate chi c'è come è andata la gara? guarda ma come non ci fossi un piccolo disguido vabbè dai comunque vabbè la mia pescatina l'ho fatta lo stesso ora poi comunque un premio te lo daremo comunque sono avanzate bottine di vino il premio del disguido una bottiglia di vino salta giù di lì allora giù dal podio giù dal podio ora facciamo le cose serie giusto giusto facciamo le cose serie manca ancora una bimba dov'è? alla franceschina allora vuol vincere allora c'è una polemica dite dite dai forse noi facciamo squadra allora la polemica niente andiamo attrottata in te è finita è finita franci vai si 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 allora giù dal podio giù dal podio giù dal podio ma non ci dote il podio e ora vediamo non so cosa c'è non vale la squadra allora tutti di la tutti di la contiamo o no qua vai il primo concorrente è qua il primo concorrente è qua uno a casa uno a casa uno a bretti vieni vieni eccolo qua eccolo qua conta Tommy conta fagliela contare al giudice di gara scriviamo ci abbiamo da scrivere? ci abbiamo da scrivere? Claudia una pena e un foglio allora inquadriamo attenzione quante sono? tre e tre aspetta prima si chiede al concorrente sono tre concordi? perfetto tre allora bisogna segnare una alla volta se no annulliamo una volta in meno ma abbiamo segnato o no? tre chi era? come si chiama? come si chiama di nome? no lui quello di prima come Tommaso come ti chiami? Filippo ah lui è Filippo visto che ce ne sono altri di Filippo fermi lui chiamalo Coppi aspetta fermo non si aspetta tutti indietro tutti indietro tutti indietro ah 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 rauz rauz uno per uno Tommaso tre ok poi Filippo 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 tre no devo ancora contare a lui scusa quante ne abbiamo contate? in Filippo in Filippo in Filippo in Filippo tre eh ok ci sono i tuoi ok diciamo adesso lui non ha pescato ma sono venuto a fare dai va bene dai gli daremo un premio accompagnato quattro 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 concordi? concordi apri il sacchettino grazie per adesso è il primo per adesso è il primo eh ragazzi eh no da questa parte grazie da quella parte allora ora Martina dietro io sono dietro Martina bisogna farli onesti qua i disonesti oooooooo 1 2 3 4 5 6 6 Martina 6 brava si squalifica si squalifica 1 2 ok come ti chiami? Federico 2 purtroppo gemellino piano 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 poi Matteo come ti chiami te? mio nonno sua nonna mia nonna 2 vai forza che schifo non toccarla Franceschina 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 2 una una che vale 2 una che vale 2 poverino dai una che vale 2 Franceschina ma c'è anche il 2 anche lui vieni vieni brava Franceschina vai svuota eh no eh glielo ha fatto valere 2 no poi aspetta era l'uno abbondante Matteo ma tu vuol dire il mio non è abbondante? uno Matteo uno vieni bravissimo bravissimo uno ma grosso uno ma grosso poi chi manca? basta il podio ora aspetta allora e ho quanto? il premio per il più grande c'è? no ora vediamo un po' cosa studiamo vieni Matteo chi manca? io ho il pesce più grande lui ha il pesce più grande è vero ma non vale? vale 1 vale 1 vale 1 vale 1 quindi è una fregatura per i più grandi allora giù ehi 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 rendici dal podio oh anche te fringuello giù dal podio giù dal podio giù dal podio allora tutti di la ora chiamiamo per il podio tutti laggiù Martina sei ahhhh ok io ehi che miseria vai 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 perché non va? perché non va? ma Luca bastardo che non sei altro scusate scusate la parola non sei altro allora terzi classificati qua c'è un po' di merito incredibile Tommaso oee oee applauso dai sul terzo bravissimo popi è grande anche lui al terzo posto classificato allora poi abbiamo un secondo che è? Filippo 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 secondo con l'accompagnatore con l'accompagnatore con l'accompagnatore e primo o meglio prima Martina bravo 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 dove va? Martina baci 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 e tu e va bene baci dai baci non te chiedi maglietta 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 assonaghi mi raccomando bella ma che bella applausi 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 comunque merito sua sapere no? ci siamo? dai vai luca vai luca vai luca mani sul cuore mano sul cuore sinistra qua c'è che ce la diamo al cuore vado bene non potete essere un cuore fuori bravi vai vai eh? la coppa vai tu vai tu vai vai facciamo finire lì facciamo finire lì a questo punto altrimenti facciamo finire lì a questo punto no no non scusa 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 che ricomincia la guardia vabbè scusa scusa bravi 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 bravo brava Martini ossia attenzione ora è il momento della premiazione tarzi classificati a pari merito, non mi ricordo i nomi, quindi vabbè, Poppi e Tommaso, bravi, 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 secondo o secondi classificati con l'accompagnatore, tipo e Riccardo, bravi, prima classificata, 15 maggio 2016, bravi, Martino! Dai la folla, la maglia agli altri, Riccardo, la dai a qui, tutti la folla, vai di microfono, ehi ragazzi, aspetta, aspetta, attenzione, 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 per il promotore, Filippo! Bravo Filippo! Wow, che bello! Dai, guardatemi! Qui? Qui? Una! Adesso mettetevi tutti la maglietta e facciamo una foto di tutti insieme! Ora mettetevi tutti la maglietta! In casa! Però pensate un po' solo! Dieni che mettiamo la manetta! No, non ce l'hanno! La vado e tu mi metti! Noi! Brava Martino! Ma non vuoi? Guardati un po' a casa! Dai, dai! Un altro trofeo invece di ciascuno le trote! Noi pesci! Le strade mollate! Le hanno già date in testa a tutti! No! 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 E' finita, Massi! E' finita! Grande, grande, grande manifestazione! Solo al lago di Cantalube! Potete vedere queste cose! Che ha organizzato? No! 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 No!